Ah beh papolo di Youtube, io sono Tierless Raptor e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della nostra videocarriera su FIFA 18 con la Lazio Oh yes baby, bentornati Dunque gente, nell'episodio precedente eravamo andati ad affrontare il mondiale di Russia 2018 alla guida del Portogallo Tuttavia non vi dirò come questo mondiale è finito perché mi piacerebbe che andaste voi stessi a vedere il video in questione Video all'interno del quale il gol più bello del torneo è stato segnato da Bruno Fernandes contro la Spagna Un salutone alla voce fuori campo e ragazzi, quale sarà il gol più bello del video di oggi? Sta a voi deciderlo Come di consueto infatti io vi invito a lasciare scritto un commento contenente il nome del giocatore Che ha messo a segno quello che voi riterrete il gol più bello di tutti quelli che segnerò all'interno di questo video Video che tuttavia non sarà concentrato sul calcio giocato, bensì sul calcio mercato Perché ragazzi siamo nel bel mezzo dell'estate, siamo al 23 di luglio e il mercato è cominciato il primo luglio Però da lì ad ora non è successo proprio niente Di fatto che cosa è successo? Sono andato a mettere in vendita un po' di giocatori Che poi, un po' di giocatori, si tratta di due giocatori di numero Ossia Lucas Leiva e Marco Parolo Tutti gli altri invece li sto tenendo qui per ora E ragazzi, quali sono le mie intenzioni in questo mercato? Di fatto non abbiamo bisogno di moltissimi pezzi per perfezionare la nostra rosa Perché nel ruolo di portiere abbiamo Stracoscia come primo, Scuffet come secondo E uno tra Guerrieri e Vargic come terzo È indifferente chi dei due rimarrà, tanto non scenderà mai in campo Per quello che riguarda i difensori centrali invece credo che potremmo considerarci a posto Perché come titolare avremo De Vrij, Jimenez e Sar Come riserve avremo Bastos, Wallace e Maurizio Che ho intenzione di far giocare e adesso vi spiego il perché Ed infine avremo Martin Caceres come settimo difensore Che insomma, fa sempre comodo il buon Martin È considerato il fatto che quest'anno punteremo alla Champions Mi piacerebbe tenerlo in rosa visto che è uno dei miei giocatori preferiti di sempre Maurizio in pratica fino all'episodio scorso avevo intenzione di venderlo Tuttavia molto probabilmente lo terrò in squadra e giocherà molto più spesso rispetto alla stagione scorsa Perché ho scoperto che non solo può giocare come difensore centrale ma anche come terzino destro Ed era proprio il tipo di giocatore di cui avevo bisogno per completare la retroguardia Quindi due piccioni con una fava Non dobbiamo spendere soldi e di fatto abbiamo il giocatore ideale per questa squadra Volevo un giocatore che potesse essere schierato anche come terzino destro Perché a gara in corso a volte potrai switchare dal 3-4-1-2 al 4-2-3-1 Per difendere un pochettino meglio E Maurizio in quel caso tornerà molto utile Visto che Caceres è in declino e non lo ferma più nessuno Perché quando abbiamo iniziato questa serie era tipo un 79, un 78, un 75 adesso Per quello che riguarda i centrocampisti centrali invece avremo come titolari Milinkovic Savic e Luis Alberto Nella formazione di riserve invece avremo Murgia e Oziakup con Cataldi come quinto Pertanto ho intenzione di vendere sia Lucas Leiva che Marco Parolo per fare un po' di cassa Li ho messi sul mercato nel momento esatto in cui è scattata la nuova stagione Ma ancora non è arrivata nessuna offerta Sulla 3-4 avremo ovviamente il buon Tony Villana per la formazione di riserva E Zlatan Ibrahimovic per quella titolare Sulla fascia destra avremo Felipe Anderson e Marujic come nella scorsa stagione Sulla fascia sinistra attualmente abbiamo soltanto un giocatore Ossia Jordan Lukaku Lukaku che tuttavia potrebbe essere scalzato dalla formazione titolare E messo in quella di riserva perché ho intenzione di fare un'unica grande spesa in questo mercato Che sarebbe dedicata alla fascia sinistra Ho segnato un pochettino di nomi che potrebbero tornarmi molto molto utile Che potrebbero fare la differenza in questa squadra Il problema è che non ho molto budget Adesso vi farò vedere una volta che vi avrò anche ricordato Che abbiamo Kishina come quinto giocatore per le fasce Non dimentichiamocelo perché il buon Riccardo posso anche toglierlo dal mercato Visto che è stato devastante nella seconda metà di stagione per noi E infine in attacco abbiamo Immobile, Correa, Poiampalo, Caicedo E un quinto giocatore che vorrei prendere da affiancare a Caicedo nella formazione di riserva Con Poiampalo come quinto Intanto vi chiedo scusa se sentite dei rumori di sottofondo Ma c'è una delle mie gatte che è in calore E infatti sì 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 lo sappiamo lo sappiamo Off camera sono andato a segnarmi un po' di nomi Che mi piacerebbe provare a puntare in questo mercato estivo Ci saranno anche dei difensori centrali e dei portieri Che adesso li vedrete perché qualora dovessero arrivare delle offerte Sia per Vargic che per Guerrieri volevo andarmi a prendere un portiere relativamente meme Come può essere Pinsoglio oppure Brignoli Ma sarebbe un qualcosa di extra Diciamo che non sono acquisti necessari Anzi, anzi tutt'altro Mentre per quello che riguarda i difensori centrali Al posto di Maurizio che non sapevo potesse giocare come difensore destro Avevo pensato a questi tre Elveidi, Mukiele o Jedwai Però non mi servirà nessuno dei tre Quindi non ci interessano Chiedo scusa per la brusca interruzione Però credo che a questo punto sia necessaria Da ora in poi l'audio del mio microfono sarà tutto quanto scoppiettante Il che è davvero un peccato perché è stato un episodio bomba questo Di conseguenza anche considerando quella che è l'interità della serie Mi scoccerebbe cestinare completamente questo episodio Pertanto ci sarà l'audio tutto quanto rovinato Io vi chiedo scusa Purtroppo a volte capita e non è il mio controllo Perché non ho modo di sentire e di controllare questa cosa mentre registro Io vi chiedo ancora scusa Capisco qualora decideste di chiudere il video perché è abbastanza fastidioso Ringrazio chiunque rimarrà in onda e buona visione Per quello che riguarda la posizione di esterno Ho tipo 4-5 nomi in mente Yannick Carrasco Che attualmente gioca al Barcellona in questo gioco Dannazione E mi costerebbe intorno ai 70 milioni 70 milioni che non ho Quindi Carrasco lo possiamo scartare Il secondo nome che mi era venuto in mente è quello di Manet del Liverpool Però anche lui costa un po' troppo Il terzo è quello di Son del Tottenham Ma anche lui costa tantissimo Martial costa ancora di più E quindi no nulla raga Cioè non posso acquistare nessuno Forse potrei provare a puntare o Manet o Son Qualora dovessi riuscire a vendere Parolo e Leiva per più o meno 10 milioni ciascuno Il che è fattibile Magari aggiungendoci anche qualche altra cessione nel frattempo Qualcosa possiamo tirare fuori secondo me Il problema è che poi non ci ribarrebbe budget Per il quarto attaccante Che potrebbe essere o Gabbiadini o Tocquecambi Più probabilmente il secondo dei due Non lo so Mi piacerebbe provare a riportare Gabbiadini in Italia Però bisogna vedere quanto budget avrò a disposizione Perché infatti Ora come ora Mi ritrovo soltanto con 33 milioni di budget Che non sono nulla Fatemi abbassare un attimo qua Quindi top Sono 36 milioni di budget Non sono sufficienti a me nella vita E non so perché io ne abbia così pochi Ragazzi non so cosa sia successo Aveva smesso di registrare Però Sono tornato più forte che mai Mi è arrivata un'offerta da parte della Real Sociedad Per Marco Parolo Di 18 milioni e 8 Non 18 12 milioni e 8 Quindi facendo una nuova offerta per il cartellino E provando a rilanciare a 15 Potremmo riuscire a scucire qualche milione extra Alla squadra spagnola Che è fissa sui 12 e 8 Ok Arriviamo a 13 e mezzo Che era bene o male quello che avrei voluto per Parolo Vediamo Sperando che poi lui vada a trovare l'accordo No non vogliono scolarsi dei 12 e 8 Dai Dai un pochettino in più per favore Nulla Non hanno voluto salire oltre i 12 milioni e 8 Avevo proposto 13 milioni e 2 13 e 2 400 mila euro in più E non li hanno accettati Quindi Fa niente mi è arrivata un'offertura per De Vrij Da parte del Bayern Monaco Ma la rifiuto Proprio neanche ci penso E l'ho offerta da parte del Watford per Tony Vilena Che vado a rifiutare Perché mi stai offrendo di meno di quello che l'ho pagato io un anno fa Che son pirla E ragazzi Prima che smettessi di registrare Avevo fatto anche un'altra cosa Ossia Ero andato a cercare bestia Il Manchester City A questo disco per 110 milioni Ero andato a cercare altre due alternative Anzi E' del vero tre alternative Per la fascia sinistra Visto che tutti quanti gli altri sono praticamente irraggiungibili E i tre nomi in questione sono quello di Nani Che potrebbe essere l'alternativa molto low cost Qualora non dovessimo riuscire ad ottenere abbastanza soldi Per acquistare uno dei quattro citati prima Dopodiché ci sarebbe Jalison Martins Che mi ha impressionato davvero parecchio durante il mondiale col Portogallo E che mi piacerebbe provare a portare in squadra Ma anche lui Per meno di 55 milioni non si muove Quindi siamo di nuovo a punto a capo Il terzo nome è quello di Douglas Costa Molto molto più economico E che probabilmente potremmo anche riuscire ad acquistare Senza particolare difficoltà Dato che Al Bayern Monaco non giocherebbe così tanto Il problema è che per l'appunto Dovrei vendere qualcuno Ma fino ad ora Nada E mi è arrivata un'offerta dal Malaga Per Cristiano Lombardi 5 milioni Oh Beh 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 5 milioni ci stanno eh 4 milioni e 8 col Malaga Top della vita ragazzi Sono circa 4 milioni che ci arrivano poi nelle casse Che Non vado a cestinare Per un giocatore che ha un 71 di overall di fatto Top E niente Veniamo eliminati dal porto Quindi niente soldi extra purtroppo Forse un pochettino ce ne arrivano Ah Altri 3 milioni e mezzo Non mi lamento Non mi lamento affatto Ah ma la Come finale Ah oddio C'è la super cupa europea contro il Bayern Bestia ragazzi Questa qua sarà tosta Sarà un bel test per noi eh E signori Valencia Vuole offrire 8 milioni e mezzo per parolo Mmm Mmm No Datemene almeno 11 Vi prego Vi prego Cos'è sto scempio 8 milioni per parolo Comunque per meno di 10 milioni Non te lo vendo eh Se non accetti 10 Caro Valencia Puoi anche andartene Ok Va bene 10 milioni per parolo Gli hanno accettati Avrebbe dovuto accettare i 12 e 8 Della Real Sociedad Sono un pirla Avanziamo Dai parolo Fatti vendere Fatti vendere Wallace Liverpool 17 milioni e 7 Bestia Questa potrebbe essere Una buona svolta eh Se poi andiamo a comprarci Ed vai Mmm È fattibile Tanto giocherebbe nella formazione di riserva Wallace Se riusciamo a ricavarci 28 milioni 25 e 28 Ciao Vattene E li investiamo subito E hanno accettato 24 milioni e mezzo Raga Urca Eh Wallace ci sta eh Wallace è sacrificabile E intanto abbiamo venduto parolo Al Valencia Abbiamo la conferenza stampa Pre Supercoppa europea Contro il Bayern Andiamo a motivare i nostri ovviamente E ora quanti milioni C'ho a disposizione Ne ho 53 Gelson Proviamo a puntare Gelson Martins Raga mi è piaciuto troppo Anche perché tra tutti quanti È l'unico che ha un contratto decente Anche perché tra tutti quanti È quello con il contratto più decente Onestamente Anche se vado a prendere Martins Al posto di Manet O di Son O di Marcial Non Non rimpiango nulla Quindi Quasi quasi Caro Gelson Andiamo a contattare lo Sporting Per acquistarlo E vediamo di mettere sul piatto Un bel po' di milioncini Il suo valore è di 40 milioni e mezzo Quindi andiamo ad offrire Così Giusto per partire Intorno ai 46 milioni E vediamo se accettano Ne vogliono 73 Siete pazzi? Va bene Scherzavo Vuoi 73 milioni E te lo prendi su per il sederino 73 milioni Non ce li ho Non mi va neanche di spenderli Douglas Costa Invece sarebbe Ormai è l'unica mia opzione Douglas Ora come ora Il che mi permetterebbe anche Di avere qualche milioncino da parte Poi eventualmente per un Yedvai E pure per un Gabbiadini Douglas Vieni da papà Ovvio che mi prendi un foto di stipendio Però ci sta Andiamo ad offrire 33 milioni Direi che possano bastare Partiamo da una base di 31 E vediamo che cosa mi dicono Ah Ok Perfetto Avrei potuto anche Proporre di meno Di fatto Andiamo a trattare Con il buon Douglas Per portarlo alla Lazio Sarebbe una beffa gigantesca Alla Juve Che nella realtà Ha il diritto di comprarlo Se non sbaglio Però vabbè Poco importa Ovviamente se resti un giocatore Cruciale della squadra Vuoi un contratto di 3 anni E mi sta benissimo Perché comunque Nei 27 Senza clausola recissoria Stipendio Che mi sta bene 120 mila Sì sì Accetto tutto quanto Molto bene Raga Douglas Costa È la nostra nuova stella Sulla fascia sinistra Che adesso andrà a giocare Proprio contro il Bayern Signori Abbiamo fatto un grande acquisto E Ibra continua a calare di overall Merda Non so se andare a puntare Direttamente L'attaccante E poi cercare il difensore Con i soldi di Wallace Volendo si può fare Cutrone non ha senso Perché è troppo simile A Caicedo Io punterei Gabbiadini Raga Io punterei Gabbiadini Andiamo a scipparlo Al Southampton Manolo Ciao Vuoi tornare in Italia 17 milioni per Gabbiadini Ne vuoi 34 Esagerati Ok 26 milioni e 6 Che ora come ora non ho Quindi termino la trattativa E aspettiamo una settimana Nella speranza che Wallace Venga venduto In modo tale Di avere i milioni da parte Però ragazzi A questo punto Direi di avanzare Di andare a giocare Contro il Bayern E ok I Germani Ah non ho risposto per i Germani Vabbè poco importa E signori Proprio il giorno stesso Della Supercopa europea Il buon Wallace È stato venduto Quindi ora abbiamo bisogno Assolutamente Di un difensore centrale Che potrebbe essere Proprio il signor Yedvai Ho abbastanza budget Quindi andiamo a contattare Il Bayern Leverkusen Per acquistare il Croato Che per per meno 14 milioni 15 milioni Dovremmo riuscire a prenderlo 12 milioni Più il 5% Sulla rivendita Va bene Tanto non lo venderò mai Il buon Tin E andiamo ad acquistarlo A sto punto Tra l'altro Lui è un ex Roma Se non sbaglio Stipendio Che lo accetto Perché non è che voglio Di stare qui a contrattare Di fatto i soldi ci sono Ho 22 milioni e 7 Che sono circa 18 milioni Sì Vendendo anche Lucas Leiva Siamo a posto di fatto Fatemi quindi andare ad aggiustare I numeri di maglia Perché in questo momento Sono tutti quanti fottuti Ottio raga Ma io ho appena realizzato una cosa Mi ero completamente dimenticato Di Luis Felipe Eeeh Ma Ulisio posso venderlo Lo stesso a questo punto Visto che ho Yedvai Top Va bene gente Andiamo quindi a giocare Questa partita Di Supercoppa Europea Contro il Bayern Monaco Giocheremo con la maglietta celeste E loro giocheranno Con la maglietta rossa Come detto poco fa Questa partita qui Sarà un ottimo test Per il nostro 11 titolare Faranno il loro esordio Sia Gimenez Che Ibrahimovic E probabilmente a gare in corso Metterà in campo Anche Ozzekup Sia in panchina Giusto per un attimo Mettere la prova pure lui Farà il proprio esordio Anche Douglas Costa E signori Detto questo Non mi resta che Augurano una buona partita A tutti quanti Ed eccoci quindi qui allo stadio In Europa pronti Per dare il via A questa prima partita Ufficiale Della stagione 2018 2019 Della formazione Bianco Celeste Sono arrivati un sacco Di giocatori nuovi Un sacco di giocatori Di esperienza In visto della Champions League Di quest'anno Che sarà forse L'appuntamento più importante E il trofeo più ambito Dai Bianco Celesti Dopo la vittoria In Europa League Della scorsa stagione Ovviamente avremo anche Un campionato di cui occuparci Però insomma Non è così tanto importante Non è nella lista Delle mie priorità Anche se vorrei provare A portarmi alla casa Fatto sa che quest'oggi Stiamo affrontando Una delle più grandi Corazzate europee Ovviamente sto parlando Del Bayern E voglio vedere Come se la cavano i nuovi In questa prima partita Ibra dal limite Fa partire il destro Le spinge Noi E le mette in angolo Eccolo qua Ibra Prima opportunità per lui Con la maglia bianco celeste Milinkovic Savic Gran recupero Su Prom Ancora il numero 21 Cross a cercare Felipe Anderson Di testa Fa da sponda Da Correa Anche il Correa Lazio in vantaggio Nel minuto numero 32 Grazie alle reti Della punta argentina Nella maniera più Acrobatica possibile Credo in quel modo Cioè praticamente Si è lanciato In una sorta di Sforbiciata Per cercare di anticipare Noiere Hummers Ce l'ha fatta Pallone che passa Sotto le gambe Dell'estremo difensore tedesco E Lazio in vantaggio Alla mezz'ora Sul Bayern Monaco Uh Non pensavo Sarebbe andata bene Luis Alberto Dalla bandierina C'è che è in mezzo ancora Milinkovic Di testa Colpisce bene Noiere costretto Ad allungare La mano a destra E mettere in angolo Vidal Da limitare A tocco per Pomsky Gira dal marchio Di tutto quanto La difesa bianco celestero Partiamo in contropiede Con Slatani Vemovic Eccolo qua Lo svedese Che va a servire in profondità Anche Correa Vicer in pallo Summers Ancora Correa In area Correa Va a calciare col destro Noiere mette in angolo Risalberta la bandierina Ancora da Sergei Buca Sergei Ma c'è immobile Dietro al nostro numero 21 Che va a bucare lui stesso Così come ha fatto Non lo so Come questa frase Stia avendo costruita Non me ne frega Cazzo 2-0 Lazio sul Bayern Radoppia Ciro immobile Signori Ciro immobile Che uomo Liberissimo Non seguito da Vidal Proprio A 2-4-2 con Neuer Non può sbagliare Neuer è Impossibile Superare in questo gioco Ma Ciro ce l'ha fatta Signori Cartellino rosso Per Matsummers Fallo bruttissimo Ai danni di Iba E adesso c'è calcio di punizione Per la Lazio Sul pallone chi va Calcio di punizione Per la Lazio Che verrà battuto Da Zlatan Ibrimovic L'uomo che si è conquistato La posizione Ha causato così L'esplosione di Matsummers Ma col destro Zlatan Pallone sopra La traversa Troppo facile Per Neuer Alaba Pallone in mezzo Dalle Marti Tacco Gira da Lewandowski Buono Ma non è rigore mai Ma non è rigore mai Per piacere Dai È venuto via A sbattere su di me Vabbè Rigore per il Bayern Da settuntunesimo E non ci voleva Non ci voleva Guardate Prendo palla Comincio a correre Mi viene addosso Fallo per il Vabbè Lewandowski Contro Stracoscia Dai e Thomas Le spingiamoglielo Hai già fatto una serie Di miracoli Pi più volte Oh Sul palo Che culo Sta partita Stavano troppo Di culo Vi giuro Amestro D Che sta Gira la palla Per Lewandowski Nara Numero 9 Col destro Rincrocia benissimo E insacca il pallone Alle spalle di Stacoscia Bayern Accorcia la distanza 9 minuti dalla fine Nonostante un infortunio Chiellini E nonostante L'esposizione di Hummels Signori Cazzo Teniamo per questi Ultimi 10 minuti Vi prego Sono anche in attacco totale Dovremmo trovare spazi Con relativa facilità Ma non se ne parla Correa Schiaccia troppo il mancino Luis Alberto Si avvicina all'area del Bayern Il pallone per immobile In fuori gioco Ci sarebbe stato 3-1 Lazio Ma era un fuori gioco Vistosissimo Da parte di Ciro Che comunque Signori Mi va a confermare una cosa Questa Lazio Con questi innesti È una squadra Potenzialmente Anche da Champions Il Bayern È stato asfaltato Non so se fosse la giornata No Per la formazione bavarese Con noi Che comunque Continua ad essere Un mostro sacro Lì davanti O meglio Lì dietro E allora Rissalberto la bandierina Per chiudere i giochi Milikovi Savic Sergei Nei minuti di recupero Che gol Di Milikovi Savic Signori Oh mio Dio Fatemelo rivedere Mamma mia Prova ad anticipare In tuffo Chi è il numero 24 Tolisso Non ci arriva Ci arriva con lo stinco Milikovi Savic Poi non è che sbatte Sul palo La sinistra di Noia Ed entra in porta 3-0 Non ce n'è per nessuno Signori Non ce n'è per nessuno Oggi La Lazio Mi ha dato la dimostrazione Di essere una squadra In grado Di mettere in difficoltà Chiunque Persino il Bayern Monaco Attualmente Detentore della Champions League Tutti quanti che esultano Andiamo a salutare Il buon Che è quello lì Hank Hank Come si pronuncia Il nome dell'ormai Accionatore del Bayern Non lo so Fatemi vedere Questa prevenzione Alzate da sta copa Con quale faccia Salberto Per favore Sembra un rosa spruzzo E' venuto male Attenzione signori Siamo tutti Andati sul podio Ciro Presimano la coppa Alza l'alta Ciro Alza alta Quella coppa E andiamo signori E andiamo Lazio che vince La super coppa europea Asfaltando il Bayern Perché si è svegliato Solo nel finale Top ragazzi Che top Vi giuro Sono felicissimo Davvero felicissimo Per com'è andata La super coppa europea La squadra ha risposto Molto bene Non posso che essere felici Ciò 4 milioni Ok Che non penso Possono essere sufficienti Ragazzi a questo punto Il video di oggi Lo concludo qui Io spero che vi sia piaciuto Se non è possibile Lasciare un bel like A postare in descrizione Inoltre i commenti In i social network E noi mi raccomando Ci vediamo alle 4 In live Sul mio canale Twitch Link in descrizione Dove insieme Continueremo a giocare Ad Axol Dopo la live Di 9 ore Fatto io A te Le sape tutto A te Buona giornata Bye Bye